Il campionato sarà ancora più avvincente, più bello, più interessante, più competitivo e noi cercheremo di farsi trovare pronti e magari di essere già pronti da questa nuova avventura che è la Supercoppa, che è l'antipasto del campionato, giochi il weekend precedente, cioè più precisamente il venerdì e il sabato e quindi già misurarsi contro Treviso, contro Trieste e contro Biella ci farà capire il livello di questa squadra e le premesse per la stagione. Adesso noi cerchiamo di definire una serie di nomi, quindi il coach sta guardando partite a tutto spiano, poi fa una lista, poi cerchi di capire gli obiettivi quelli raggiungibili, ovviamente hai delle preferenze e quindi vai in quella direzione lì, però poi il mercato, come dire, non è che sei Milano e che quindi puoi chiudere in 24-48 ore, non hai questa forza. Poi purtroppo dipende il giocatore, se è un giocatore che ha tante possibilità, poche possibilità, se le ha in Italia, se all'estero, se le offerte economiche sono vicine, se invece sono su altri pianeti, non esiste la tempistica del mercato.